Regione Toscana, il Consiglio regionale. In Consiglio regionale, dibattito sulla Banca Monte dei Paschi di Siena con una risoluzione unitaria sottoscritta dalle forze di maggioranza e di minoranza con esclusione di Fratelli d'Italia, per dare al Presidente Gianni la forza di portare una posizione largamente condivisa dal Consiglio regionale al Governo nazionale, al fine di tutelare il marchio, i posti di lavoro e la governance in Toscana della Banca Senese. In particolare con questo atto, il Consiglio regionale impegna la Giunta a proseguire il confronto istituzionale aperto con il Governo a difesa del risparmio e del credito in Toscana, nella ricerca delle migliori soluzioni tecniche possibili per garantire un futuro solido al Monte dei Paschi di Siena. La Banca è considerata presidio economico e occupazionale strategico per il territorio senese e toscano, all'interno di un progetto dal respiro nazionale ed europeo. La Giunta dovrà quindi valutare, in coordinamento con il Comune e la Provincia di Siena e la stessa Fondazione Monte dei Paschi di Siena, la possibilità di chiedere a livello nazionale e delle istituzioni europee il prolungamento del mantenimento della partecipazione pubblica nel capitale della banca, con il rinvio della privatizzazione e una ulteriore proroga della norma sul Golden Power, esigenza dettata dalle mutate condizioni economiche e sociali che l'emergenza pandemica ha comportato. È una banca statale che si trova di fronte al momento a questo bivio, lo leggiamo, da un lato questa strada che il Governo sembra aver percorso, ma insomma non è detto, è un piccolo passo, e poi un impegno più grande. Certo, il bivio chiediamo allo Stato tempo, tempo perché mi sembra che tanti compiti sono stati affatti, bisogna dirci la verità, la redditività operativa ancora è bassa perché il passato, quello che hanno potuto fare, lo stanno facendo, oramai abbiamo questo, purtroppo abbiamo il problema del personale perché tutte le banche hanno tagliato, Montedepaschi non l'ha fatto e quindi ancora questa redditività operativa che non funziona. Quindi diamogli tempo, il piano c'è, mi sembra che è un piano realistico, certo non raccontano sogni, se l'avete letto, dicono quello che sono e quindi cerchiamo di tagliare, io direi anche di fare qualche dismissione, perché l'hanno fatto tutti, tutti i sistemi bancari, tutte le banche l'hanno fatto per salvare il salvagire, perché una fusione vuol dire chiudere il Montedepaschi, l'abbiamo visto, è la storia di tutte le casse di risparmio, quindi se vogliamo chiudere perché il Dio Europa vuole questo, cancelliamo tutto, cancelliamo tutto, se lo Stato vuole, vuole fare un peccato, vuole, ce l'ha detto chiaramente il Presidente Gianni, lui l'ha detto il numero, il pacco regali, 6 miliardi sono soldi nostri e allora tra i 6 e i 2 cerchiamo di non cancellare, non cancellare anche perché non sappiamo quello che ci aspetta nel post pandemia, tutti i tanti discorsi belli sul recovery, bene, diamogli fiducia, resilienza, che vuol dire? L'aspettiamo! Montedepaschi è la principale azienda della Toscana, è l'azienda più antica bancaria, oggi ancora esistente nel nostro paese, deve essere ambiziosa, Siena è una città ambiziosa, lo è la Toscana, l'obiettivo è supportare il nostro Presidente al cospetto del Governo per fare in modo che Montedepaschi rimanga la terza banca d'Italia, per fare questo deve essere coprotagonista di un processo di crescita con soggetti paritetici e soprattutto il Governo deve fare la propria parte. Il Governo è chiamato ad assumersi una grande responsabilità nelle prossime ore, nelle prossime settimane, chiediamo di assumersela facendo in modo che i dipendenti, marchio, storia di questa banca possa rimanere a Siena, possa rimanere in Toscana e dalla Toscana si possa avere un processo di aggregazione che veda al centro Montedepaschi protagonista e che magari la ricollochi a livello nazionale per essere ancora la terza banca d'Italia, non si può perdere questa storia, abbiamo il dovere di traghettarla nel futuro, quindi il nostro sostegno per accompagnare questo percorso e fare in modo che nelle prossime settimane si risolva il Toscana e Montedepaschi rafforzando questa storia, dandole ambizioni e soprattutto consentendole un grande percorso di crescita e di rafforzamento e di consolidamento. Si è svolto un importante dibattito nel Consiglio regionale per quanto riguarda la banca Montedepaschi di Siena. Abbiamo dato un contributo di idee, anche una progettualità di un cammino da seguire. Sappiamo che a metà del 2022 vi è l'impegno di dismissione delle quote in Banca Montedepaschi da parte del Tesoro. Noi chiediamo in considerazione del carattere eccezionale dell'emergenza che stiamo vivendo una moratoria di 30 mesi, così come chiediamo una proroga di 12 mesi per quanto riguarda il Golden Power nei confronti dei soggetti europei. Condividiamo la richiesta di sostegno dell'iniziativa della Fondazione Montedepaschi di risarcimento nei confronti della banca e proprio per questo abbiamo chiesto che sia nominato un advisor che possa seguire la soluzione della controversia. Chiediamo un nuovo ruolo di Fidi Toscana perché vi sia con l'impegno diretto della Regione Toscana anche sotto questo punto di vista. La Lega ha le sue idee, ha le sue proposte e le sta portando in modo responsabile anche per quanto riguarda la difficile questione bancaria. Temiamo che possa esservi ulteriori conseguenze negative. Dopo anni difficili per le banche toscane e questo non ce lo possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere soprattutto dal punto di vista occupazionale. Nell'intervento che ho fatto in aula ci ho tenuto a ricostruire quello che è stato il lavoro di due anni della prima commissione che è stata fatta qui in Regione Toscana proprio su quello che è avvenuto su Monte dei Paschi, che è stata presidenza del Movimento 5 Stelle dal 2015 al 2016. Ci ho tenuto a fare quella ricostruzione e a elencare quelle che sono state le conclusioni dell'atto finale perché ciò che è avvenuto, quegli intrecci tra politica e finanza che tanto male hanno fatto a Monte dei Paschi e di conseguenza ai risparmiatori, agli azionisti e al territorio non solo regionale ma anche nazionale non ci fossero più, fossero in tutti i modi da quel momento in poi stornati. Si capisca che questo è il momento invece di andare davanti al Governo nazionale, agli interlocutori a dire chiaramente cosa vogliamo fare per sostenere la banca più antica del mondo che ha dato prestigio e tanta ricchezza alla nostra Regione ma anche all'Italia e questo lo dobbiamo, l'intervento che è stato fatto per salvarla, ricordiamolo che è stato fatto anche al prezzo delle tasche di tutti noi cittadini dal momento in cui è stata acquistata la parte delle quote. Quindi il salvataggio è importante ma è importante in questo momento pandemico anche cercare di capire quali sono i tempi giusti che sono non meno importanti delle giuste decisioni. Tutti quegli asset che potrebbero finire in mano straniera, immaginatevi cosa non potrebbe succedere se Monte dei Paschi finisse in mano straniera, significherebbe che i risparmi di tanti italiani, che le aziende che sono finanziate da Monte dei Paschi finirebbero in mano straniera. Ecco perché ci siamo battuti per tenere Monte dei Paschi nelle mani per ora del tesoro, in mani sicure e per dare una prospettiva diversa a quella banca. Ciò non toglie che da forza liberale quale siamo, non siamo contrari a nessun processo di fusione, non siamo contrari ai processi di acquisizione ma a alcune condizioni. La prima è che la direzione rimanga a Siena, cioè che a Siena rimanga la direzione di Monte dei Paschi di Siena, che non si tocchi il marchio, abbiamo visto sparire in Toscana troppi marchi, che si tutelino i livelli occupazionali, che si tutelino gli investitori, i risparmiatori e il nostro tessuto economico e commerciale che dà sviluppo. Soprattutto ho preso atto, considerato che in Toscana se escludiamo Cassa di Risparmio di Volterra non c'è più una banca che ha qui appunto testa e gambe. Per questo motivo abbiamo parlato quindi di Monte dei Paschi di Siena, ma se parliamo di questo argomento noi riteniamo che non si possa non ripensare il ruolo e la funzione di Fidi Toscana, soprattutto anche tenuto conto di quello che ha detto il Governatore Gianni nei mesi scorsi e rispetto a questo argomento però siamo rimasti perplessi del fatto che non sia stato minimamente presso in considerazione la discussione odierna da parte sia di Gianni che della maggioranza. Quindi noi abbiamo presentato un ordine del giorno impegnando il Consiglio a discutere entro un termine relativamente breve del futuro di Fidi Toscana proprio nella prospettiva di dare alla Toscana un istituto che possa accompagnare il tessuto socio-economico-industriale toscano rispetto alle sfide del futuro. Una Toscana senza banche è una Toscana più debole, è una Toscana dove gli imprenditori, l'industria ma anche le famiglie non hanno un'interlocuzione diretta con chi appunto si occupa di questo settore importante e qual è il credito. Per questo è fondamentale il ruolo di Fidi Toscana, per questo è fondamentale ripensare la strutturazione, il ruolo, la funzione di Fidi Toscana e non può non passare al Consiglio regionale. Firmato in Regione Toscana il protocollo di intesa per l'accesso, la verifica e il rispetto della legalità nelle carceri della Regione. La firma è avvenuta alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo con il provveditore per l'amministrazione penitenziaria Carmelo Cantone e il garante dei detenuti per la Toscana Giuseppe Fanfani. Si tratta di un impegno reciproco per realizzare la più ampia collaborazione nella tutela dei diritti dei detenuti, nel miglioramento degli standard di qualità della vita e nel rispetto della legalità negli istituti penitenziari della Toscana. Il carcere è un luogo di sofferenza in relazione al quale tutti gli operatori e tutte le figure istituzionali che sono chiamate a confrontarsi con essa devono avere una particolare attenzione. Abbiamo cercato di mettere assieme al provveditorato tutti gli aspetti particolarmente delicati di questa situazione e li abbiamo tradotti in un protocollo di intesa che fa sì che tutte le garanzie costituzionali per i detenuti che vanno dalla salute all'istruzione e quant'altro noto vengano correttamente attuate. Noi siamo andati a un rinnovo e una rivisitazione di accordi che già in passato insistevano sulla Toscana con uno spirito ben preciso, quello di riuscire a fissare delle regole d'ingaggio tra noi, amministrazione penitenziaria territoriale e i garanti della regione toscana e i garanti locali. Condividere delle regole, condividere soprattutto delle forme di collaborazione il più immediate possibili per abbattere anche la quantità di ostacoli burocratici che a volte ci possono essere nelle attività quotidiane, facilitare la comunicazione con gli istituti, facilitare lo scambio di informazioni fra di noi, cosa che è particolarmente importante in questa fase della vita del mondo penitenziario nel Paese. Veniamo da un anno difficilissimo, abbiamo la necessità tutti di mettere fuori la testa e di riprendere una serie di collegamenti, di azioni buone all'interno degli istituti. Allora un grande patto con i garanti del territorio è fondamentale proprio per incrementare la presenza del territorio all'interno degli istituti. Su questo ovviamente l'accordo è fatto con il provveditore regionale ma insieme con me e con noi ci sono ovviamente tutte le realtà penitenziarie del nostro territorio. Io ho voluto accoglierlo subito qui questa firma perché ho detto dall'inizio della mia esperienza come Presidente del Consiglio regionale che questo luogo, il Consiglio regionale, deve essere un luogo per dare voce a chi ha meno voce e quindi questo accordo va esattamente in quella direzione. Fare in modo che la vita nelle carceri possa migliorare, fare in modo che quelle persone che hanno commesso dei reati vadano riformate, vadano reinserite in una vita migliore di quella che avevano prima. Io penso che una democrazia, una civiltà si misuri in funzione del livello delle sue carceri. Per questo dall'inizio sono andato a visitare a Sollicciano, sono stato al Don Bosco e insieme al sindaco Dario Nardella avevo chiesto di vaccinare la polizia penitenziaria, poi i detenuti e sono contento che il Ministro Cartabia da subito abbia chiesto di vaccinarli rapidamente per evitare che il virus entri all'interno delle carceri, vivono in maniera molto ravvicinata, il rischio del contagio è molto grande. Ora però serve uno scatto in avanti, servirebbe fare in modo che anche le strutture possano migliorare, vedere sei, otto persone nello stesso luogo, stretto, piccolo, con bagni fatiscenti. Io voglierei fare su questo una battaglia e finire il mio giro nelle carceri per poter mandare un dossier, un resoconto di quella della situazione delle carceri toscane insieme al Garante, al nuovo Ministro.